La vertenza dei dipendenti ATM in Consiglio regionale, la Regione si impegna a pagare gli stipendi. In apertura la vertenza ATM che oggi è approdata in Consiglio regionale. Palazzo Vietale ha annunciato che si impegnerà a pagare gli stipendi ai lavoratori finché sarà necessario. Il servizio di Pasquale Bartolomeo. La Regione ci ha assicurato che il pagamento diretto ormai è diventato un fatto strutturale e che non si torna indietro. Quindi questo significa che comunque i lavoratori vedranno pagarsi lo stipendio, dico con una certa regolarità. Svolta nella delicata vertenza del trasporto pubblico locale per i dipendenti ATM. Stamani durante il Consiglio regionale monotematico l'audizione tra politica e sindacati con la Regione Molise che eserciterà i poteri sostitutivi in maniera irrevocabile per far fronte ai ritardi dei pagamenti nei confronti degli autisti, molti dei quali vantano quattro mesi di arretrati. Abbiamo passato il Natale, Capodanno e Befano senza sorte. E l'azienda comunque ha ingassato questo milione e quattrocento mila euro. Una giornata storica l'ha definita l'assessore trasporti pallante che tiene ancora aperta la strada della gestione diretta da parte dell'ente ma esclude la possibilità di revocare il bando. Resta aperta la questione dei cedolini che l'imprenditore La Rivera deve consegnare alla Regione per facilitare i pagamenti. L'azienda continua a fare ostruzionismo sulla consegna dei cedolini che sono indispensabili per la Regione per poter pagare gli stipendi. Dopodomani ci sarà un ennesimo raffreddamento sindacale nei quali rigorreremo ancora alla autorevolezza di Sua Eccellenza il Prefetto per sollecitare ancora una volta un atteggiamento collaborativo che l'azienda non ha tenuto in maniera costante. Molti dei lavoratori con le loro famiglie hanno presenziato in assise per rivendicare a gran voce i propri diritti. Noi chiediamo semplicemente che venga fatta la società in house perché siamo stanchi. I dipendenti non sono stupidi, non vanno a fare i decreti ingiuntivi se prendono le mensilità giuste al momento giusto. Basta con le bugie. La Rivera dal canto suo parla di vessazioni da parte della Regione e lamenta retrati non pagati per tempo per 8 milioni di euro. Non è l'unica novità. In Consiglio regionale passa anche la mozione del Movimento 5 Stelle che ipotizza l'istituzione di una società in house, ovvero a gestione interna del servizio, da sottoporre al vaglio dell'assise. Intanto si resta in attesa della decisione del Tar Molise sul contenzioso relativo alla gara per il nuovo gestore del servizio. Giuseppe Larivera, capo dell'ATMSPA, ha impugnato il bando perché giudicato incompleto ed elusivo della normativa vigente. Al bando hanno risposto due raggruppamenti, uno che ha come capogruppo GTM, il cui amministratore è appunto Larivera, l'altro Lasati. Il caso ATM anima anche il dibattito politico, ci aggiorna Matteo Bosco Bortolaso. Per Micaela Fanelli del Partito Democratico la tutela dei passeggeri molisani e dei lavoratori dell'ATM deve rimanere la stella polare, dentro e fuori il Consiglio regionale. Il Movimento 5 Stelle chiede che i trasporti locali siano gestiti direttamente da una società in house. Internalizzare il servizio di trasporto pubblico locale, ripeto, per il rispetto dei lavoratori, dei cittadini e di quante persone ogni giorno qui in Molise si trovano a subire il trasporto pubblico locale. All'interno del centro-destra Forza Italia appoggia l'operato del presidente Donato Toma, mentre la Lega, con il commissario Michele Marone, sottolinea che il disegno di legge sull'autonomia, recentemente presentato dal Consiglio dei Ministri, potrebbe portare benefici in regione anche nel settore trasporti. Michele Iorio, consigliere di Fratelli d'Italia, critica invece il presidente Toma, sottolineando che l'ATM non paga gli stipendi per problemi di liquidità, a sua volta dovuti ai mancati pagamenti della regione. La regione con l'azienda non si è comportata in maniera adeguata perché non ha rispettato alcune competenze economiche che avrebbe dovuto versare e che gli sono state invece riconosciute sempre da sentenze passate in giudicato. Luigi Valente, di Azione, sottolinea che trasporti e mobilità devono essere tra le priorità per le prossime regionali. La forza politica fondata da Calenda si presenterà unita ad Italia Viva di Renzi per le consultazioni che si dovrebbero tenere domenica 25 e lunedì 26 giugno. Ieri l'ultimo episodio, un autobus della Sati che ha perso una delle ruote posteriori. In Molise ha uno dei parchi bus più vecchi d'Italia. Vediamo con Nicolas Leone cosa sta facendo la regione per rinnovare il nostro parco autobus. Una vecchia flotta che perde non solo metaforicamente i pezzi. La ruota smarrita da un autobus Sati partito da Riccia e diretto a Campobasso ricorda, se mai ce ne fosse bisogno, che per il trasporto pubblico locale in Molise è tempo di cambiare. Qualcosa in effetti si sta muovendo e i segni del cambiamento sono già tangibili. Come i 32 autobus di ultima generazione, ecologicamente e tecnologicamente avanzati, che sono entrati in servizio. Altri 38 sono già stati consegnati e tra poco, completate le ultime formalità, scenderanno in strada, altri ancora arriveranno a breve. Seppure con un po' di ritardo sulla tabella di marcia annunciata mesi fa, il rinnovamento del parco mezzi procede abbastanza speditamente. Entro aprile-maggio, 150 nuovi autobus a gasolio e metano saranno stati messi in moto. Con i 68 mezzi a idrogeno già opzionati, si sale a quota 218, numero che significa rinnovamento di almeno il 70% della flotta del TPL molisano. Un salto quantico, dice l'assessore regionale ai trasporti Quintino Pallante, ricordando che i precedenti acquisti di autobus risalivano addirittura al 2007. Mezzi molto più inquinanti, dagli Euro 6 con emissioni minime di adesso, agli Euro 2 o addirittura Euro 0 di allora. I nuovi mezzi resteranno di proprietà della regione. I vincitori della gara europea in via di assegnazione li gestiranno con un usufrutto oneroso. La ruota del TPL ha ricominciato a girare.